bentornati sul canale vince l'inter vince ancora la squadra tenerazzurra in finale di coppa italia contro la fiorentina nonostante una partenza d'endicap con il gol subito a freddo di nico gonzalez ma vince l'inter perché si è ancora una volta dimostrata squadra in salute squadra squadra seria squadra che ha ritrovato consapevolezze a inizio stagione il gol dopo due minuti avrebbe fatto crollare crollare gli undici di simone inzaghi e invece l'inter ha passato la tempesta si è rialzata ha macinato gioco ha ribaltato la situazione e passa avuto soffrire in un secondo tempo nel quale la fiorentina si è buttata in avanti a una finale sei sotto chiaramente quindi anche per quantità riesce a creare occasioni è stata poco lucida l'inter nel nell'approfittare delle praterie lasciate dalla fiorentina e diverse occasioni soprattutto potenziali per l'inter 23 importanti per la fiorentina complimenti complimenti alla alla fiorentina al di là del risultato devo dire una prestazione in linea con quella che è la qualità della della fiorentina oggi oggi in questi oggi ieri insomma mi chiedevano dove quali erano quali potevano essere i rischi per l'inter e io ho sempre detto rischi per l'inter sono i rischi che corre una squadra che affronta un avversario di qualità un avversario di qualità sia a livello individuale sia a livello di gioco e i fatti devo dire mi hanno dato ragione quindi veramente complimenti alla fiorentina che che ha un organico su nome di livello è molto sottostimato devo dire a livello a livello italiano ma tanti giocatori tanti giocatori molto bravi proprio nella qualità pura e e si associano anche bene tra loro manca qualcosa davanti a livello di cattiveria e come atteggiamento tattico sono molto spregiudicati con l'autaro in campo il titolare qui non vuole essere una critica in zaghi sulla gestione è vero oggi l'autaro poi entrato molto prima rispetto al solito ma con l'autaro in campo dall'inizio la fiorentina avrebbe rischiato molto molto di più perché anche nel primo tempo lasciavano veramente diversi metri e milenkovic oggi male martinez quarta non è che abbia fatto meglio del compagno di squadra serbo ma anche perché l'atteggiamento espone i difensori della fiorentina anche a brutte figure e se ci fate caso nel primo tempo ha fatto tutto l'inter a cerbi sbaglia l'appoggio sull'autaro che è in ritardo e arriva il gol della fiorentina poi don fris un paio di scelte sbagliate una clamorosa in due contro uno riesce a dare la palla giocatori e prova a rientrare in maniera assurda sul sinistro tante parità numeriche non sfruttate e poi alla fine arriva il gol di l'autaro su un'imbucata molto molto bella e apprezzabile di brosovic che però nel frattempo già aveva perso non uno ma due tempi perché già poteva darla prima l'autaro e poi potreva darla al di marco milenkovic si è attardato e quindi anche nel terzo tempo alla fine l'imbucata è stata vincente poi grandissimo con sontuoso gol di l'autaro su bel cross di barella però in generale ho visto un inter più preoccupata di controllare che non andrà a chiudere una partita che si sarebbe potuto aiutere è vero che dall'altra parte andanovic salva su su jovic e in un paio di circostanze sia sempre nico gonzalez e sempre lo stesso jovic hanno messo in difficoltà difesa anche vero che dall'altra parte go senza davanti la porta spara alto sinistro di lukaku parato poi di marco in fuorigioco barella con lo specchio totalmente aperto non si è capito se l'ha un ciuffo d'erba gli ha fatto rimbalzare alta la palla comunque alle stelle occasioni ce l'ha che putte anche l'inter ma perché la fiorentina si era veramente riversata nella metà campo avversaria e lì bisognava chiudere la partita non ho visto il massimo dell'inter non ho visto un inter al massimo visto un inter controllata un inter che ha provato un po a gestire e soprattutto a metà campo si si vede come pesi l'assenza del quarto titolare mkhitaryan perché poi cala cala la qualità quando cala la aspetto fisico dei tre dei tre centrocampisti e sai che l'ingresso in quel caso di aslani in vantaggio con gli avversari che ti attaccano è troppo rischioso devi mettere cagliardini che non ha il valore tecnico né di brosovic né di barella né di mkhitaryan e né di cianol la reazione di geco al cambio una reazione totalmente normale dovuta all'adrenalina della partita e chi si sofferma su questo dettaglio vabbè andanovic grandissima parata su jovic salva partita grandissima parata su jovic per il resto palpitazioni e patemi quando esco non esco su nico gonzalez rimane a mezza strada il cross dentro l'area piccola dentro l'area piccola in un paio di circostanze il difensore i difensori nero azzurri hanno dovuto ricacciare la palla dall'area piccola che quella è zona totalmente del portiere anche su quel fallo che commette mi sembra cabral lui esce timido cioè esce salta timido con le braccia raccolte al corpo e le gambe le gambe dritte per dritte il portiere alza il ginocchio e mette paura e io perché lo dico sottolineando il grande intervento il grande intervento avuto su jovic perché perché si è notata la difesa dell'inter meno sicura molto più bassa quasi come se l'incertezza di andano ci trasmettessero altrettante incertezze poi a tutta la fase di difensore dell'inter secondo me questo non è banale però umanamente come ho detto anche nelle ore precedenti alla gara umanamente è stata una scelta io ho compreso quella di inzali al di là degli equilibri spogliatoio il record tutte queste altre cose che sinceramente c'entrano poco con l'inter umanamente non l'ho condivisa ve lo dico anche dopo la parata su jovic non l'ho condivisa la scelta di andano ma l'ho compresa l'ho compresa comunque sono due supercoppa coppa italia ci sarà un'altra finale adesso con l'atalanta in campionato per staccare il pass definitivo per la prossima Champions League nella quale l'inter ve lo ricordo entrerebbe sorteggi come seconda fascia quindi in seconda fascia la prima fascia ragazzi è tutta da ridere quest'anno è tutta da ridere poi ne parleremo poi ne parleremo e e poi ci sarà l'altra finale la grande finale che devo dire la verità anche per quanto ora del mio approccio all'ultima gare dell'inter dopo l'accesso alla finale quindi Napoli oggi con con la Fiorentina e credo sarà lo stesso l'Atalanta ha tolto molto del pathos su queste gare perché tu sai che comunque lì c'è la finale di Champions League e di più non c'è parte chiaramente lo scudetto che possiamo metterlo sullo stesso livello secondo me la Champions più affascinante lo scudetto più regolare la Champions più sul matamata lo scudetto più sulla continuità proprio sulla stagione e ha depotenziato le altre partite quindi se mi vedete un po abbacchiato questa sera non è abbacchiato insomma rilassato un po non è solo stanchezza molto è stato 75 per cento per cento è stanchezza però l'altro 25 per cento è perché quando poi arrivi sai che devi giocarti la prima di Champions si fine Coppa Italia bello vincere premi tutto bello però sai che c'è poi altro con la consapevolezza che è molto difficile che è difficilissimo che gli altri partono favoriti ma il calcio il calcio regala sorprese il calcio soprattutto premia il lavoro costante e il lavoro serio e quindi pensiamo prima inter atalante fra poche fa fra meno di 72 un saluto